Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa ventiquattresima puntata del podcast di Marcosbox. Cominciamo la settimana parlando di Debian. Dopo venticinque mesi di sviluppo, il team di Debian ha annunciato il rilascio di Debian 10, i nomi in codice Buster, la nuova edizione stabile che sarà supportata per i prossimi cinque anni. Non mancano in questa nuova versione i consuliti a giorni medi di desktop environment, che come da tradizione Debian sono mantenuti in una versione leggermente più vecchiotta per evitare regressioni e quant'altro. Torniamo Cinnamon 3.8, questo è molto vecchio come versione di Cinnamon, Gnome 3.30, KDE Plasma 5.14, RXDE alla 0.99.2, RXQT alla 0.14, MATE alla 1.20 e XFCE alla 4.12. Diciamo che l'unico che è aggiornato all'ultima versione stabile è XFCE, perché XFCE non viene aggiornato nella versione stabile di sugo già da diversi anni, quindi per forza di cose i team di Debian ha incluso l'ultima versione stabile vera e propria. In questa versione di Debian, Gnome utilizza Wireland per impostazione predefinita al posto di X.org, anche se X.org è ancora installato per impostazione predefinita, quindi non dovete preoccuparvi in caso di problemi con i driver video. Il supporto Wi-Fi continua a essere notevolmente migliorato in Debian 10 Buster, il supporto al Secure Boot, incluso in questa versione per l'architettura AMD64, i386 ARM64, dovrebbe funzionare immediatamente con la maggior parte delle macchine abilitate per il Secure Boot senza dover disabilitare appunto il supporto al Secure Boot nelle configurazioni del firmware. Dovrebbe condizionare il dobbio, perché come ben sapete la sfiga è quella cosa che ama gli utenti Linux. I parchetti circolari che passano? Dicevamo, i parchetti Cups e Filter sono installati di default in Debian 10 Buster, offrendo agli utenti tutto ciò che è necessario per sfruttare la stampa senza driver. Non mancano poi i consueti aggiornamenti dei parco software di Debian, parco software Debian che è sconfinato, è uno dei più grandi, ci sono ben più di 59.000 pacchetti software pronti per l'uso, troviamo la versione ESR di Firefox, GIMP che è aggiornata alla versione 2.10.8, LibreOffice alla 6.1, vabbè poi andatevi a leggere magari il changelog completo. Troviamo poi SystemD alla versione 241, Samba alla versione 4.9 e degno di nota anche il fatto che il kernel Linux è al ramo 4.19. Ovviamente non dovete preoccuparvi per quanto riguarda i kernel Linux perché in caso di eventuali problemi verrà comunque fatto il backport sulla versione precedente, anche per i vari desktop environment se c'è qualcosa di particolare viene fatto il backport. State tranquilli, Debian è sempre una sicurezza, sotto punto di vista della sicurezza. Per una versione di Debian che viene rilasciata c'è una versione di Debian che inizia il suo ciclo di sviluppo. Il team di Debian, il giorno dopo il rilascio di Debian 10, ha annunciato la versione, il nome in codice della prossima versione di Debian, Debian 11, si chiamerà Bursai. Bursai chi è? Il cavallo di Woody. Come ben saprete tutte le edizioni di Debian prendono i propri nomi in codice da personaggi di Toy Story e anche la prossima edizione non farà eccessione Bursai se è quel cavallo tanto simpatico con gli occhioni giganti. Quindi buona fortuna al prossimo ciclo di sviluppo di Debian. Passiamo ad un'altra distribuzione che è stata rilasciata questa settimana. Proprio mentre vi sto registrando la puntata, è stato fatto l'upload dell'Iso sui siti dedicati all'hosting per le immagini di testing, è stata rilasciata la versione beta di Linux Mint 19.2 nelle tre edizioni sin a Monomate e XFSE. Mentre vi sto parlando non è ancora stato dato l'annuncio ufficiale sul blog di Linux Mint, comunque le novità le sappiamo abbiamo nell'edizione principale la versione 4.2 di Cinnamon, poi l'edizione Mate che vede l'arrivo di Mate 1.22 e l'edizione XFSE invece che è ferma alla versione di XFSE precedente, quindi i pacchetti presenti nella 19.1 perché non ci sono stati rilasci di XFSE, quindi è sempre quella della minestra. Passiamo a una notizia molto interessante che è stata fatta questa settimana e riguarda la decisione da parte di Canonical di rilasciare i driver Nvidia più recenti nelle versioni LTS di Ubuntu per impostazione predefinita. Significa che a partire direttamente da questa release di Ubuntu, quindi è una cosa che è avvenuta in corsa, a partire da Ubuntu 18.04 e GTS, ci saranno presenti all'interno dei repository di Ubuntu gli ultimi driver Nvidia disponibili, quindi i 430 se non ricordo male che sono l'ultima versione. Ciò significa che non sarà più necessario aggiungere PPA esterni o installare manualmente i driver. Ovviamente questa decisione si ripercuoterà in maniera positiva su tutte quante le varie distribuzioni che si poggiano su Ubuntu, nella fattispecie Linux Mint, KDN, Elementari e quant'altro. Ultima notizia della settimana arriva dalla Germania. In Assia, l'Assia è uno dei 16 stati federati della Germania, una delle nazioni più attenti alle tematiche relative alla privacy dei suoi cittadini. In Assia, il commissario per la protezione dei dati e della libertà di informazione ha sancito che utilizzare Office 365 a scuola è illegale perché i dati personali dei studenti vengono spediti su server statunitensi. Andatevi poi a leggere l'articolo che ho pubblicato dove ci sono tutte quante le spiegazioni del caso. Questa notizia è molto importante ma non riguarda soltanto Office 365, riguarda anche Google, Apple e anche Windows 10 perché Windows 10 utilizza i dati della telemetria che viene spedita su server ostati negli Stati Uniti, le soluzioni cloud di Office di Google, le soluzioni di Apple, anche in questo caso che ostano i dati degli utenti su server statunitensi. Andatevi comunque a leggere l'articolo, c'è anche una conclusione, diciamo così, fin quando non verrà sistemata questa faccenda, il consiglio è quello, diciamo così, di utilizzare licenze locali. Quindi fino a quando non verrà risolto che scuole potranno utilizzare altri strumenti, magari gli auguro di passare a soluzioni come LibreOffice oppure di dotarsi di versioni di Office quelle locali, quindi non la versione cloud. Andatevi comunque a leggere l'articolo su Marcosbox perché è molto interessante e apre alcuni sviluppo interessanti che fa riflettere anche su cose che noi delle volte non ci pensiamo tanto al fatto che i nostri dati vengono spediti e gestiti dagli Stati Uniti, dalla Cina, da altre potenze, da altri stati. Noi siamo un po' a manoreggia quando si tratta di gestire i nostri dati privati, non tutti, però molti utenti non si importano dalle conseguenze, non si informano sulle tematiche relativi a rappresentarsi dei propri dati. Bene, con questo concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci vediamo la prossima settimana con la nuova puntata del podcast di Marcosbox. Ciao ciao!